Mattinata fra prove in palcoscenico e conversazioni di musica e vita per i giovani artisti di Cremona, che hanno incontrato al Teatro Ponchielli il maestro Jader Bignamini, brillante direttore d'orchestra di origini cremasche, nominato nel 2020 direttore musicale della Detroit Symphony Orchestra. L'evento, organizzato dal liceo Stradivari in sinergia con il Conservatorio Monteverdi e con il patrocinio del Comune, rientra nel progetto scolastico Stradivari Incontri e ha dato agli studenti una duplice opportunità, sia a provare insieme al maestro Bignamini, che ha dato il via alla mattinata guidando l'orchestra Monteverdi e Stradivari sulle note della Terza Sinfonia di Beethoven, sia a dialogare con lui sui diversi aspetti della professione artistica. Sicuramente uno dei miei desideri è quello appunto di continuare l'attività per i giovani, sia in Italia che a Detroit, dove già la sto facendo, ma stamattina secondo me abbiamo messo le basi per una collaborazione con tutte le istituzioni musicali della città. Speriamo, visto che abbiamo tanti giovani talenti, che possa sfociare in un'attività di un'orchestra anche qua a Cremona. Con la sua di orchestra, la Detroit Symphony, come sta procedendo il lavoro? Sta andando tutto benissimo, abbiamo un'attività molto molto importante, e il pubblico finalmente ormai è ritornato ai livelli di normalità pre-pandemia e abbiamo dei programmi uno più bello dell'altro. Abbiamo appena fatto la seconda di Mahler, abbiamo appena fatto il concerto per violino-orchestra di Marquez, adesso ritorno settimana prossima, faremo un'ottava di Beethoven. E non dimentica le sue origini anche in questo senso musicali, perché collabora, quando ne ha l'occasione, anche con un gruppo di Scandolara. Quando torno a casa tutta la mia famiglia suona in quella banda e quindi è anche un modo per stare assieme alla mia famiglia, io mi diverto, mi dedico alle percussioni, cerco di dare qualcosa sempre dal punto di vista musicale e umano a loro e tanta energia mi danno.